Il problema è che con l'intelligenza artificiale bisogna avere anche una definizione di quella che è la nostra di intelligenza. Pensate al grande interrogativo, arriveranno un giorno delle macchine che ci governeranno? Beh, ma per capire questo bisogna avere ben chiara qual è la differenza tra la nostra e la loro. E noi sulla nostra non abbiamo queste idee chiare. Il viaggio che noi facciamo nell'intelligenza artificiale sarà un viaggio pieno di domande molto affascinanti, molto intriganti. Le risposte per il momento ce n'è qualche d'una, ma è un campo molto aperto. Del resto Einstein diceva che il bello della conoscenza sono le domande. Quando poi arriva la risposta, sai come vanno le cose, è molta lì, è un po' noioso. Allora, sabato alle 14 e domenica alle 18 qui su Radio 24, IA, l'intelligenza in prima legna.